Dopo l'operazione di lunedì scorso contro chi apre sacchi neri dell'indifferenziato e diversi rifiuti in strada si registra oggi un nuovo intervento del nucleo operativo ambiente decoro urbano dei vigili urbani di Salerno che ha effettuato una serie di controlli sul conferimento corretto della spazzatura. In primo luogo e in coerenza gli accordi intercorsi con l'assessore alla sicurezza di Salerno Claudio Tringali, la polizia, la protezione civile, lo speciale nucleo dei caschi bianchi diretto da Mario Elia e dal comandante Rosario Battipaglia unitamente ad agenti della polizia di Stato e coadiuvati da personale della Salerno Pulita hanno dato luogo ad un servizio dedicato a chi fruga indiscriminatamente tra le buste dei rifiuti indifferenziati e carrellati svuotandone il contenuto sui marciapiedi. In particolar modo si tratta di personaggi che cercano rifiuti di natura ferrosa e capi di abbigliamento dismessi che poi selezionano per avviarli alla vendita nei mercati paralleli. I controlli hanno interessato numerose strade cittadine con riguardo in particolare alle zone interessate dal fenomeno così come segnalato dai residenti Giulio Rossi, Via Solera, Via Caterina, Via Coda. Alla fine si è arrivati al fermo di cinque soggetti di nazionalità romena. Una seconda operazione ha poi interessato l'area della stazione ferroviaria dove i vigili urbani hanno riscontrato la presenza di soggetti all'interno del corridoio di accesso ai binari. Gli stessi alla vista dei vigili urbani sono fuggiti via. Nel corso dello stesso servizio i vigili hanno anche riscontrato la presenza di una quantità significativa di sacchi di rifiuti depositati da gestori di noti esercizi pubblici tra Piazza della Concordia e Lungomare Colombo. I gestori sono stati obbligati al ritiro dei rifiuti per il successivo conferimento. Le indagini ora proseguono per individuare anche persone e condomini responsabili di errato conferimento dei rifiuti, come ad esempio il non corretto uso di carrellati e l'utilizzo di contenitori non sufficienti a contenere la spazzatura, costringendo gli abitanti ad occupare marce a piedi e strade di passaggio. Grazie. 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 Grazie.